Avviato il progetto di riqualificazione dell'ex ospedaletto di Trani. Al lavoro ci saranno sette utenti del centro di salute mentale. Il progetto ha coinvolto oltre al Dipartimento di Salute Mentale le cooperative sociali Questa Città e Campo dei Miracoli e l'associazione Lega Ambiente. Obiettivo la naturale prosecuzione delle attività di cura del verde e realizzazione di orti già avviati dal 2013 con la collaborazione di Lega Ambiente. Un progetto straordinario di recupero di uno dei polmoni verdi più grandi della città di Trani utilizzando anche persone svantaggiate. Una iniziativa anche dal risvolto sociale notevole. Abbiamo messo insieme due cooperative. Una cooperativa sociale tipo A che si occupa sostanzialmente di riabilitazione ed è in particolar modo la riabilitazione psichiatrica ed è la cooperativa Questa Città che a sua volta ha favorito la costituzione di una cooperativa di inserimento lavorativo di questi soggetti svantaggiati che è la cooperativa Campo dei Miracoli. Abbiamo proposto alla Direzione Provinciale del Lavoro una sorta di accordo che coinvolgeva l'ASL le due cooperative e la direzione per iniziare appunto un percorso di formazione quindi è un progetto formativo per un numero 7 disabili che all'interno di quest'area tenderanno praticamente a fare il recupero dell'aria attraverso una manutenzione e pulizia di tutto quello che sta intorno. E poi inizieremo al recupero dell'aranceto che sta alle spalle oltre che la produzione di prodotti orticoli di tipo biologico. Ci occuperemo praticamente di orticoltura sinergica e principi di giardinaggio. Con l'orticoltura sinergica non utilizzeremo chimica quindi anche i rottami, i residui, le foglie, le potature verranno in realtà, come state vedendo, umidificati per favorire il compostaggio e li utilizzeremo come concime naturale, esattamente. Quindi non c'è bisogno di trasportare quello rifiuto che produciamo perché in realtà non è un rifiuto. Si basa principalmente tutto su questo, riuscire a iniziare a fare qualcosa di nuovo riscoprendo l'antico. I ragazzi sono motivatissimi, abbiamo già ottenuto, volendo, molto più di quanto ci si aspettava, anche come forze, nei primi giorni d'opera perché qui non era visibile praticamente il pavimento perché c'erano tutti i getti dell'ailanto che spuntavano ovunque e come potete vedere quello è sostanzialmente il materiale che abbiamo asportato da qui sotto. Andremo avanti, ora clima permettendo, riallestiremo un pochino l'orto dove riutilizzeremo questo materiale per creare dei bancali, delle strutture soprelevate sul terreno dove andremo a piantumare ortaggi. La prossima sessione di lavoro riguarderà la cura dell'agrumeto e quindi credo che procederemo prima con un'imbiancatura del tronco che presenta alcuni attacchi fungine, insomma è stato un po' trascurato nel tempo. E poi un piazzale lì alle spalle interessante perché stiamo sperimentando, credo che sia in Puglia il primo avocadeto. Ci sono per ora cinque piante di avocados di circa 70 centimetri.